In sostanza io proverò a dire cose un po' più alla mia portata. Allora, per l'occasione ho cercato di recuperare una dimensione di donna, ma è stato più complicato di tutta la campagna elettorale, però ci proviamo lo stesso. Io in realtà questa sera vorrei ringraziare voi, quindi il partito di Parma, per avermi accolto, per avermi aiutato, per avermi sostenuto in questa sfida bella, ma comunque difficile, e sento che in queste settimane siamo diventati una squadra. E quindi davvero grazie con tutto il cuore. Grazie a voi e a tutte le persone che hanno lavorato per me in queste settimane, che hanno fatto i giri anche sotto il tempo avverso, quindi grazie davvero con tutto il mio cuore. Io ho messo tutta la mia passione per conquistare la vostra fiducia, per conquistare anche la fiducia delle persone, dei cittadini di Parma e anche del suo territorio. Ringrazio anche Giorgio per essere stato il mio cavaliere in questa esperienza. E in realtà sono molto orgogliosa di aver portato in queste settimane, in questo mese, questa visione, questo progetto, che secondo me è bellissimo, perché parla di vita, parla di speranza, parla di buona politica. Credo che noi abbiamo fatto una campagna, più che di di cosa, una campagna seria sui contenuti, nel rispetto anche degli altri candidati, perché ci siamo concentrati sulle nostre idee, cercando di raccontarle, cercando di coinvolgere più persone possibili in queste nostre idee, che noi riteniamo le più giuste e le più valide per questo nostro paese, che è bellissimo. Sono contentissima di aver fatto questa campagna qua, perché questa città per me è stata ripartenza, ogni volta è una ripartenza, e quindi credo che per me essere stata qua e averla iniziata qua è stata una grandissima gioia, è un grande dono. Spero che potrà esserlo anche per voi e per, insomma, più persone possibili. Per questa occasione speciale di questa sera ho pensato di realizzare un apposito video che racconta dei miei primi cinque anni di vita, e quindi da quando sono arrivata qua. È un video in cui, così, ci sono un po' di cose che ho fatto appunto in questi primi cinque anni, e come potrete vedere è tutto iniziato da qua e tutto è finito da qua, ma ripartirà, speriamo, di nuovo da qua. Quindi spero che vi piaccia, questo è il mio regalo e il mio modo di ringraziare tutti quanti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.